Buonasera e ben ritrovati a Come se fosse facile l'approfondimento televisivo di Rimini Social. Questa sera parliamo di violenza alle donne e femminicidi. Domani sabato 24 si svolgerà la camminata è per te, proprio una partecipazione di tutta la città a questo tema per contrastarlo e soprattutto per prenderne coscienza. Quindi questa sera abbiamo deciso proprio di parlare di femminicidi e di violenza alle donne. I numeri sono davvero disarmanti. Dall'inizio di quest'anno si parla già di 106 vittime. Le statistiche parlano di uno ogni 72 ore. I numeri sono sempre un po' anonimi, un po' brutti, però danno un'idea, una cartina attorno a sole di quello che sta succedendo, di una serie di casi che più che di cronaca ormai sono di vera e propria quotidianità. Allora presentiamo subito i nostri ospiti che questa sera con noi ci aiuteranno a capire qualcosa in più di questo fenomeno e soprattutto ci racconteranno anche cosa si fa in città a Rimini contro questa violenza alle donne. Allora presentiamoli subito. C'è con noi Paola Gualano, Associazione Rompi il Silenzio. Buonasera. Buonasera. E Gloria Lisi, Vice Sindaco, Assessore ai Servizi Sociali. Ciao Gloria, buonasera. Paola, allora l'Associazione Rompi il Silenzio. Che cosa fa? Cosa fate sul territorio? E voi che comunque avete un po' il polso della situazione, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di violenza alle donne a Rimini? Intanto parliamo di un fenomeno che è uguale in tutto il paese, potrei dire in tutto il mondo. Quindi è un fenomeno trasversale che colpisce le donne in quanto donne e che ha una matrice prevalentemente ovviamente culturale, quindi patriarcale. Che cosa fa Rompi il Silenzio? Rompi il Silenzio è un centro antiviolenza presente sul territorio da 13 anni ormai. e il rapporto con le donne inizia prevalentemente tramite vari sportelli spassi sul territorio provinciale. Vari, e questo lo ripeto ogni volta, non perché Rompi il Silenzio voglia essere presente necessariamente in tutta la provincia, ma perché in questa maniera abbiamo capito che è più facile se ci avviciniamo noi nei vari territori alle donne che spesso sono impossibilitate ad uscire di casa, anche perché molte volte non hanno neanche soldi per l'autobus. Quindi ci avviciniamo noi, ci sembra più facile. Diciamo che offrire un servizio capillare vuol dire riuscire a raggiungere più persone. Questo forse è uno dei motivi per cui anche i numeri aumentano, perché noi abbiamo chiuso il 2017 con 213 accessi, quest'anno al 31 ottobre, veramente all'altro giorno noi avevamo un numero pari a 253 accessi e non abbiamo ancora finito l'anno in pratica. Quindi il contatto principale avviene tramite gli sportelli, con un accesso in autonomia da parte delle donne che ci cercano, oppure il suggerimento da parte delle forze dell'ordine, sempre nei riguardi delle donne, o dai presidi sanitari. È fondamentale che sia la donna a presentarsi e che chieda un appuntamento o un colloquio. Spesso e volentieri lo fanno in qualche modo nascondendo qual è poi in realtà il vero motivo della telefonata e chiamano chiedendo se c'è la disponibilità di un legale, di uno psicologo, sto cercando lavoro e noi che ormai conosciamo questa metodologia della lista della spesa, consigliamo sempre di avere un primo contatto con l'operatrice e di solito è lì che viene fuori poi il mondo in pratica. Quello che però mettiamo in campo è anche quello che ho appena citato, quindi la possibilità di avere delle consulenze legali, delle prese in carico da parte degli legali, due psicologhe che sono attive sia in accoglienza che in ospitalità, le educatrici, lo sportello lavoro finanziato ormai da anni dalla regione che in qualche modo ci consente di attivare dei percorsi a volte anche di tirocini o comunque di cercare una sistemazione a lungo termine e poi la partecipazione ad una serie di progetti regionali e ministeriali che ci consentono di avere quei quattro soldini in più per garantire non solo il necessario ma anche quello che consente alle donne e poi di prendere il largo lontano dal maltrattante. Certo, perché diciamo serve una struttura per aiutare la donna a fare quel passo che altrimenti sarebbe un po' difficile da intraprendere. Sì, la struttura in questo momento, quindi parliamo di ospitalità, tramite il Comune di Rimini abbiamo in gestione, in affidamento tre case, tutte a indirizzo segreto e una casa di indirizzo segreto sul distretto sud. Quindi i posti letto sono in questo momento, direi, numericamente adeguati. La cosa che secondo me comunque è sconvolgente è il numero di persone che sono state ospitate in dieci mesi, nei dieci mesi di quest'anno, e sono 39 donne e 46 bambini. Sono un numero molto alto, veramente molto alto. E controllando, paragonando anche i dati regionali, quindi con gli altri centri antiviolenza della regione, abbiamo verificato che effettivamente il trend è in aumento sia in accoglienza che in ospitalità per tutti i centri. E' chiaro che noi come centri preferiamo dare la lettura del… i centri sono più conosciuti, le donne si fidano maggiormente, vengono attivate dai centri antiviolenza tutta una serie di logiche, aiuti per cui le donne ad un certo punto effettivamente si fidano e arrivano. preferisco dare questa diversione piuttosto che pensare che gli episodi di violenza siano in aumento. Certo è che direi che nell'ultimo mese invece tutto quello che sta succedendo forse un po' mi smentisce. Sì, sembra dare un po' l'altra lettura. Gloria, domani c'è la camminata, un segno molto forte del comune, una vicinanza anche per chi si è trovato insomma a vivere situazioni del genere. Qual è il significato di questo evento e soprattutto anche qual è il ruolo del comune, della comunità per chi si è trovato a passare dalla violenza? Il ruolo del comune è quello di dare, prima di tutto ascolto, di dare l'opportunità ai centri di antiviolenza di poter ascoltare queste donne, quindi dare gli spazi, casa donne sotto il comune di Rimini, il nuovo spazio in via Bufalini, il spazio Vinci, le tre case per l'accoglienza. Diciamo che questi sono aiuti concreti, non scontati, sicuramente importantissimi, ma l'altro aiuto è tutto il sostegno che si può dare anche quando ci si confronta un po' su tutto. Mio malgrado l'altro giorno ho chiamato Paola perché non avrei mai voluto ascoltare, mi è capitato in ufficio personalmente una donna vittima di violenza è venuta a raccontare queste violenze a me e io ho detto guarda io non sono adeguata e chiaramente l'ho indirizzata alle operatrici che sono formate per questo, però per farvi capire che se io in quel momento non avessi avuto un centro antiviolenza, anche se ho un ruolo istituzionale importante, anche se sono vice sindaco o vice sindaca di un comune importante, non avrei avuto gli strumenti perché è vero che abbiamo gli assistenti sociali, è vero che abbiamo i servizi, è vero che abbiamo una serie di strumentazioni sociali per dare delle risposte adeguate a dei bisogni diversi delle persone, ma la violenza è qualcosa di diverso, è qualcosa che va trattato con un'accuratezza, una professionalità che solo le volontari e le operatrici dei centri antiviolenza possono garantire, anche noi che siamo istituzioni, anche le forze dell'ordine perché se non ci fosse questa sinergia fra istituzioni e quindi il comune cosa deve fare? Cercare le condizioni per mettere intorno a un tavolo tanti soggetti diversi, ognuno con la propria professionalità, ognuno con la propria missione, ma che si lavori in un'armonia e in un accordo per raggiungere un obiettivo importante che è quello di portare la donna all'autonomia, quello di non... all'inizio quando le donne sono chiuse nelle case in diritto segreto è come una sorta di segregazione, allora il primo sentimento che ti viene è quello di rabbia, perché dici tu che hai subito tanto, adesso devi anche allontanarti magari dai tuoi affetti, dalle amicizie che hai per stare in protezione. Ecco, e magari l'uomo maltrattante rimane nella casa della famiglia, queste sono quelle situazioni senza le quali è chiaro che è importante che le donne siano messe in protezione perché altrimenti queste sono donne che rischiano la vita, non è che non hanno la casa e hanno un problema abitativo, queste sono donne che rischiano la vita loro e dei loro figli e quindi penso che sia fondamentale creare questa rete importantissima sul territorio dove dal pronto soccorso, all'assistente sociale, chiunque può lavorare in sinergia con l'altro. In Prefettura abbiamo attivato, col nuovo Prefetto, un tavolo proprio per mettere a sistema tutta una serie di procedure che i singoli enti devono rispettare per poi fare in modo ad esempio che le indagini abbiano un riscontro positivo, per fare in modo che tutte le prove raccolte non vengano magari male utilizzate e poi non possano portare alla condanna del maltrattante. Quello che mi premo un po' a sottolineare, ieri non abbiamo dato i dati dell'azienda ASL è che come dicevi in premessa hai nominato il numero 106, l'avevo letto anch'io stamattina il numero delle donne ammazzate in Italia nel 2018, 106. Leggendo i dati dell'ASL sono 106 gli uomini che nella rete dell'ASL Romagna, quindi comprendendo anche i territori di Forlice, Sena e Ravenna, oltre che Rimini, sono 106 gli uomini maltrattanti che hanno conosciuto il servizio dell'azienda sanitaria. Alcuni perché il 33% perché è stato il partner a dire questo uomo, il mio partner mi maltratta, ma alcuni anche che hanno riconosciuto di avere un problema. Quindi cerchiamo di guardare in positivo perché dobbiamo sicuramente lavorare in sinergia anche su questo aspetto. Quindi gli uomini maltrattanti, cioè sono uomini che stanno, vivono, lavorano intorno a noi. Come diceva Paola in premessa non c'è una distensione di classe sociale, genere, livello di istruzione. Guardavo il 53% di questi uomini maltrattanti sono laureati. E quindi questo ci fa capire come il fenomeno della violenza sia talmente radicato ma talmente anche insidioso. Quando la donna dell'altro giorno è venuta a raccontarmi di quello che ha subito, è qualcosa che veramente non puoi immaginare quando appartiene soprattutto a certe classi sociali. Quindi penso che sia importante questo ruolo del Comune di riuscire a mettere in piedi un sistema che faccia però anche cultura e prevenzione. Quindi anche il ruolo che il centro antiviolenza, gli operatori, hanno nella formazione delle nuove generazioni penso che sia imprescindibile da tutto quello che si fa nella lotta contro la violenza alle donne. La camminata, veniamo domani alle 16, ci incontriamo all'arco, inizieremo a camminare alle 16.30. L'arco d'Augusto è la porta della nostra città e penso che sia un bel modo per iniziare a camminare. Sono più di 2.000 anni che c'è, noi forse come donne dobbiamo recuperare un gap di più di 2.000 anni per arrivare a un livello dove la violenza venga vista davvero come una violazione dei diritti umani. Eppure la camminata è anche quel modo di far sentire le donne vicine a una comunità. Quindi a me piacerebbe, il sogno sarebbe che tutti i 150.000 cittadini del Comune di Rimini potessero camminare insieme a noi domani per dire no alla violenza. Magari... E' potuto condividere lo stesso messaggio. Esatto. Io ho qualche altra domanda da farvi, però prima, visto che abbiamo parlato della camminata di domani, ci guardiamo il servizio dell'altro sociale in cui l'Associazione Crisalide ci racconta che cosa faranno domani anche loro, ma anche le loro altre attività. L'Associazione Crisalide da 25 anni si occupa di essere vicina alle donne che hanno subito un intervento di carcinoma mammario, quindi non direttamente legata alla violenza, ma quando si parla di dignità della donna si parla appunto di dignità a tutto tondo e quindi l'Associazione ci sarà domani e ha un messaggio da lanciare. Ascoltiamola assieme. L'Associazione Crisalide è nata oltre 25 anni fa, quindi opera sul territorio veramente da molto tempo. Noi soprattutto offriamo supporto psicologico alle donne operate al seno, sia attraverso delle figure professionali come la psicologa, la sessuologa ed altri esperti, ma soprattutto attraverso le attività che organizziamo. Durante lo svolgimento di queste attività ogni donna ha la possibilità di condividere con le altre le sue ansie, le sue paure, ma soprattutto direi invece proprio la voglia di vivere, la creatività ed anche l'impegno sociale, perché alcuni dei nostri progetti hanno questa valenza. Quindi questa rete di rapporti interpersonali fa sì che la donna si senta meno sola nell'affrontare il percorso della malattia che purtroppo spesso è anche lungo e difficile. Noi facciamo parte da anni della rete antiviolenza della provincia di Rimini e appunto in relazione alla tipologia di attività che appunto produciamo abbiamo sempre partecipato a questa giornata del 24 novembre o sarebbe il 25 ma è stata anticipata al 24 con delle installazioni. Quest'anno abbiamo utilizzato il simbolo delle scarpette rosse che è ormai più che internazionale e che utilizzeremo appunto nel punto di partenza del corteo cittadino che si svolgerà il giorno 24 novembre alle ore 16 all'arco d'augusto che è anche vicino un po' alla nostra sede. Attraverso questa installazione noi vogliamo sensibilizzare appunto la cittadinanza al concetto di inviolabilità della donna che consideriamo fondamentale. Il 24 alle 9 un quarto in via Marzabotto 30 nella sede dei sindacati quindi un sabato mattina avremo otterremo un incontro su questa tematica cibo ambiente buone pratiche per la salute del pianeta. Ora noi da tempo ci interessiamo del tema dell'alimentazione perché abbiamo scoperto fin dal convegno del 2016 che se nell'ambiente ci sono dei fattori di rischio e se la scienza oppone a questi fattori di rischio la sua ricerca però è anche vero che il singolo può adottare dei comportamenti corretti per prevenire eventi negativi ma anche per prevenire le recidive. Tra questi comportamenti positivi c'è naturalmente l'attività motoria che è una panacea diciamo per ogni tipo di problema, ogni patologia e anche la corretta alimentazione. Allora da anni noi ci stiamo impegnando nell'affrontare questo tema da ogni singola angolazione. Quest'anno abbiamo voluto fare una specie di carotaggio su un aspetto che non avevamo mai affrontato che è quello del rapporto dell'interdipendenza diretta tra biodiversità e salute dell'uomo. Ci tenevo a dire che facciamo molta prevenzione nelle scuole soprattutto, è iniziato da poco un progetto, abbiamo iniziato lunedì presso l'Istituto Alberghiero di Rimini ma andremo anche presso altre scuole con le ragazze di Quinta insieme alla dottoressa Canuti della Sinologia dell'ospedale di Rimini per sensibilizzare le ragazze, accogliere quei segnali che potrebbero far pensare ad una patologia perché purtroppo l'età in cui si manifesta il tumore al seno sta rapidamente abbassandosi, il numero delle donne colpite sta alzandosi perché avevamo un rapporto circa 15 anni fa di 1 a 10 e adesso invece è andato in questo rapporto è di 1 a 8 però è anche vero che la diagnosi precoce salva la vita e fa anche in modo di dover fare interventi molto meno invasivi e anche cure meno debilitanti. Ho dipinto due opere, due temi ben distinti ad Acquerello che poi andranno all'asta questi quadri, verranno venduti poi per scopi sempre benefici. Adesso parliamo sulla violenza delle donne, il quadro che ho dipinto si vede una ragazza dietro un uscio, si nota solo metà del viso e in questo viso si nota il timore di chiedere aiuto, non c'è questa voglia di chiedere aiuto, c'è questa paura, anche sull'uscio si vede questa mano insanguinata che rende proprio l'idea. Però la violenza può essere psicologica oltre che fisica anche. La farfalla, simbolo di crisalide, porta un aiuto di maggior consapevolezza nelle donne, ho voluto fare questo. Ho raffigurato madre natura nel suo aspetto originario, una bella ragazza con degli occhi di lago stupendi, azzurri, per simboleggiare la natura, questa vegetazione lussureggiante intorno a lei. Però è aggredita tutt'attorno da una presenza devastante dell'uomo, queste piante secche, questa cosa desertica. Quindi l'uomo può creare queste cose, può distruggere il nostro pianeta. La farfalla di crisalide diventa una metafora, una metafora di tutte le associazioni, di tutte queste associazioni ambientaliste e tutti coloro che credono in questo progetto. I temi posteranno tanti e il dibattito ne susciterà certamente alcuni, verrà fuori certamente l'argomento dei cambiamenti climatici perché dopo quello che è successo questi giorni non si può evitare di parlarne. Quindi noi invitiamo coloro che ci ascoltano a partecipare con la loro presenza e anche magari con il loro suggerimento e i loro interventi nel dibattito. Allora noi abbiamo cominciato con dei numeri, adesso riparto da quei numeri perché quelli che abbiamo citato all'inizio, tra l'altro i quali si aggiungono i numeri delle donne uccise dall'inizio del millennio, dal 2000 si parla di 3000 donne, sono stati curati dall'Eures che a un certo punto dice la coppia rappresenta l'ambito più a rischio per le donne con ben 1426 vittime di queste 2000 che di cui abbiamo visto adesso di coniugi, partner, amanti o ex partner. Insomma la coppia che dovrebbe essere l'ambito più sicuro per entrambi, sia per l'uomo che per la donna, diventa invece per la donna una zona un po' di pericolo. Paola che lettura ricaviamo da questo dato e da questa citazione? Intanto ritorno un po' a quello che dicevo prima, quindi l'aspetto culturale in prevalenza, ma soprattutto vorrei mettere l'attenzione sul fatto che si continua a parlare di sicurezza quando si parla di questo fenomeno, quindi è un problema di sicurezza e la si mette, ma si butta sempre sul fatto che sono quei brutti, cattivi, sporchi e neri che vengono che c'è da dove, che si avvicinano alle nostre donne. I dati sono ovviamente esattamente l'opposto, non è un problema di sicurezza, è un'emergenza che invece è all'interno delle nostre case, perché i dati lo confermano e chiaramente è ancora più difficile, è più triste ed è più doloroso dover cercare di attuare una serie di azioni che vadano a in qualche modo interferire all'interno della coppia, all'interno della famiglia. Perché quello che hai in mente è che non solo hai violenza da parte della persona che ha dichiarato di amarti, spesso, e forse è questo il dramma, fino a che morte non ci separi, quindi sembra quasi predittivo, all'interno della casa, del posto che ritieni di solito quello che ti è più rassicurante in assoluto. È esattamente l'opposto, diventa il posto più odiato in assoluto sia per le donne che per i bimbi. Certo. E mi riferisco a quello che diceva Gloria prima, quando noi mettiamo le donne in protezione, noi siamo le prime a star male, perché sappiamo che i tempi saranno estremamente lunghi, che le donne dovranno lasciare il lavoro, donne e bimbi non potranno uscire da quegli spazi, i bimbi non potranno andare a scuola. Spesso capita di dover trasferire tutto il nucleo, addirittura in un'altra regione, per motivi di sicurezza. E quindi significa ripartire da capo. Allora, come facciamo davanti a un percorso di questo tipo a pensare veramente che sia un problema di sicurezza? Come mai? Anche, mi sembra abbastanza eclattante l'ultimo episodio del figlicidio di Marco, io leggevo stamattina, ha ucciso il figlio per errore. Perché siamo sempre così indulgenti nei riguardi dei maltrattanti. Abbiamo sempre una scusa nel... Esatto, il raptus. Anche l'uso delle parole diventa talmente indicativo all'interno della nostra società e tutto sembrerebbe a favore del maltrattante, quindi comunque dell'indagato e mai della vittima. Quindi noi spostiamo anche persone fuori dal nostro territorio, persone che devono ripartire completamente da capo, come se fossero appena nati, con invece alle spalle una storia spesso di mille anni di sopprusi, di violenze, di tutto quello che sicuramente non vi potete immaginare. Gloria, riguardo a queste ultime cose di cui ha parlato Paola, una delle altre cose che si legge in questo resoconto dell'Eures, sono le denunce inascoltate, cioè oltre un terzo delle vittime di femminicidi di coppia subito nel passato ripetuti maltrattamenti. C'è qualcosa in più che si potrebbe fare? Diventa... c'è sempre... non c'è una verità su questo, no? In alcuni centri di violenza, in alcune regioni, ad esempio, alcuni centri di violenza prendono in carico le donne solo quando denunciano. Allora, io so che se vado a dare la mia... no? A raccontare la mia storia, magari non sono così sicura che questa persona, che è padre dei miei figli, lo voglio subito denunciare. Devo fare molto spesso un percorso, poi alla fine la denuncia si arriva, però bisogna rispettare anche i tempi delle donne. Quando quello che ci fa... ci dà un grande senso di impotenza è quando vediamo... sì, sicuramente i dati che citavi, donne inascoltate, cioè donne che magari hanno denunciato un sacco di volte, no? Quindi a differenza del caso che facevo prima, che però quella denuncia non si è trasformata in niente di concreto, oppure semplicemente perché è stata anche emessa una, no? Magari un procedimento di divieto, di avvicinamento alla donna, alla casa, ai figli, eccetera, ma viene puntualmente non rispettato. E questo succede nella quotidianità anche dei casi che il nostro centro antiviolenza sta in carico. E ci sono situazioni di pericolo delle donne, ma di pericolo anche, no? L'altro giorno io raccontavo di quello che è una violenza che continuava, ma mette a rischio anche la vita di quelle persone che magari in quel momento quella donna gli stanno dando un'accoglienza, la stanno cercando di riportare a una normalità, a una serenità, per quanto la violenza lasci delle cicatrici davvero pesanti, davvero difficili da rimarginare. Tante donne diventano malate psichiatriche, tante donne da quelle ferite non riescono a recuperare neanche un'autonomia non solo lavorativa, economica e sociale, ma della propria anima, del proprio essere donna. Quindi certe donne sono devastate e sapere che rimangono inascoltate ferisce ancora di più la nostra società e ci deve interrogare sicuramente, ma deve interrogare tutto il sistema, da chi prende la denuncia in quel momento al pubblico ministero, al giudice, tutto il sistema su questo deve lavorare in sinergia finché questo percentuale non esista più nel nostro paese. Dove c'è un'emergenza su questo? Noi non possiamo, mentre parlano di emergenza quando parlano dei migranti, molti politici, non parlano di questa che è la vera emergenza, perché se l'immigrazione è un fatto strutturale nell'essere umano, la violenza delle donne non lo è. Chi pone violenza a una donna, che sia psicologica o fisica, viola un diritto, come dire, un diritto sacrosanto che è quello della libertà, quindi un diritto inviolabile dell'uomo. Sono crimini contro l'umanità, eppure nei casi delle guerre le prime vittime sono le donne, no? Pensiamo a tutti i casi, li abbiamo avuti mica centinaia di anni fa, no? Perché la donna è la parte che comunque viene colpita perché si vede una fragilità e quando magari un uomo non sa dove, come incanalare una rabbia, una frustrazione, un dolore, colpisce una donna che vede più fragile. Quindi diciamo che il concetto di emergenza ha sempre una connotazione politica, almeno in quest'ultimo periodo sicuramente. 106 morti nel nostro paese, io penso che dovrebbero interrogarci da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a letto. Parlando invece di cultura, Paola prima ha citato che sono problemi culturali, Gloria ti volevo chiedere, noi inciampiamo spesso su parole come vice sindaco, vice sindaca, assessore, assessore, alcune ci suonano anche un po' brutte, sono parole nuove, probabilmente ci vorrà del tempo per digerirle. È così importante fare questa distinzione? Prima di tutto dobbiamo educare noi stessi. Io per prima mi devo educare a non fare in modo che le mie orecchie o a quel fonema che finisce in A, diano un riscontro di fastidio, no? Oppure dover dire, ma come dire che vuoi apparire qualcos'altro perché sei una donna? No. Allora, questi nomi sono stati pensati per uomini perché fino a pochi anni fa solo gli uomini li potrebbero ricoprire questi ruoli. E per noi donne a volte essere chiamate con il femminile è quasi degradante nel nostro essere finalmente riuscite a guadagnarsi un ruolo istituzionale. Quindi anche questo è sbagliato. E allora abbiamo iniziato, no? La camminata per noi è il fulcro, è il fulcro di quello che è un lavoro continuo di tutti i giorni. Ma abbiamo iniziato la ricorrenza del 25 novembre proprio con un convegno sui linguaggi dove tutte, no? Abbiamo visto quanto fosse davvero difficile in questo caso educarci a pensare che ci siano delle donne che possano ricoprire certi ruoli nella nostra società. E mi ha fatto molto pensare quando una donna vittima di violenza ha letto, no? La testimonianza che ha dato il Virariano nel corso di questo convegno ha raccontato come una donna vittima di violenza, quando ha letto che c'era una prefetta, ha pensato ma davvero esistono donne che ricoprono ruoli così importanti. Allora, questo è qualcosa, ripeto, che ormai non ci facciamo più caso. Io quando mi chiamano vice sindaca all'inizio rimango sempre un po' così disorientata, ma in realtà dobbiamo anche per le nostre bambine dare un esempio che è quello concreto di iniziare a usare un linguaggio adeguato. Non c'è l'Accademia della Crusca, ha sdoganato. Noi pensavamo, ci appendavamo a dei problemi grammaticali. No, è corretto, in italiano c'è il maschile e il femminile, i generi sono due, vice sindaca. Quindi cominciamo a usarlo insomma. Ok. Va bene, allora prima di salutare i nostri ospiti continuiamo con le pillole del terzo settore, come sapete c'è una grande riforma che coinvolge il terzo settore, noi la raccontiamo puntata dopo puntata. Questa sera è con noi Maurizio Maggioni, direttore di Volontaribili, che ci parla del volontario. La novità del codice del terzo settore è che la definizione giuridica della figura appunto del volontario è valida per tutti gli enti del terzo settore, quindi non più solo per l'organizzazione di volontariato e viene appunto sottolineata però la gratuità dell'attività del volontariato, quindi viene ribadita e ricordata. Il codice quindi sancisce proprio il diritto dei lavoratori subordinati che intendono impegnarsi nel volontariato presso un ente di terzo settore di poter anche utilizzare delle forme di flessibilità oraria o turnazioni previste dai contratti compatibilmente con l'organizzazione aziendale, questo è un riconoscimento molto importante. Viene proprio definito come una persona che per sua libera scelta, quindi la libertà e la precondizione, svolge attività a favore del bene comune e della comunità in qualche modo per il tramite di un ente di terzo settore, quindi una delle organizzazioni previste nel codice come ente di terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità per promuovere risposta ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiari della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito. Questo era un concetto forte anche nelle precedenti norme, ma qui viene ribadito e vale per tutti quanti, senza naturalmente le finalità di lucro, nemmeno indirette ed esclusivamente per finalità di solidarietà. Quindi è stato dato un chiarimento molto forte su chi cosa è il volontario. Naturalmente l'obbligo è quello dell'assicurazione per i volontari di infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi. Dopodiché l'associazione di volontariato non può essere attribuita in nessun modo neanche indiretto e neanche dal beneficiario, per cui al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, però sono vietati ad esempio i rimborsi forfettari. L'assicurazione deve essere stipulata appunto per quanto riguarda la responsabilità civile contro terzi e malattie e infortuni sulle base delle attività svolte in particolare ai volontari. Come sappiamo il volontariato si sviluppa e si svolge in contesti molto diversi. Se pensiamo alla protezione civile o all'attività di più di tipo culturale, chiaramente anche le classi di rischio sono diverse, quindi bisogna inquadrare la tipologia di attività con precisione all'interno di una posizione assicurativa che tuteli prima di tutto il volontario, l'organizzazione stessa e poi appunto anche i beneficiari della sua azione. Noi siamo in chiusura, io prima di salutarci vorrei chiedere alle nostre ospiti un ultimo appello. A Paola un appello per chi? Per quelle donne che si sentono magari in una situazione di difficoltà ma non hanno il coraggio di chiamare, quindi quali motivi possono spronarle? E a Gloria invece vorrei chiedere un appello per domani, per la partecipazione alla camminata. Paola? Intanto diciamo che il mese di novembre è il mese, proprio perché c'è il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza, è il mese in cui si parla di più di violenza. Però ricordiamoci che noi non siamo attive soltanto il 25 novembre, ma ci siamo tutto l'anno, con un centralino che è aperto tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ti risponde un'operatrice, di solito il primo contatto è il contatto che lega in qualche modo, che forse anche dall'altra parte fa capire che chissà, forse c'è la possibilità di fidarsi. L'invito è questo, venite a fare un giro, anche se non volete dare un colpo di telefono perché è difficile, prendete un libro da donare e portatelo al centro e venite a fare due chiacchiere con le operatrici. Cominciamo a mettere i piedi al centro. Esatto, vedete che aria tira, venite a prendere un caffè, c'è un divano comodo, state un po' con noi, imparate un attimo a conoscerci, vedete se vi potete fidare. Gloria, per domani? Domani aspettiamo tutti, dai più piccoli ai più anziani, veramente all'arco d'Augusto alle 16 per dire no alla violenza contro le donne, per dire no a ogni genere di violenza. Ci fermeremo poi all'arrivo in piazza Tremartiri, qualche parola io e Paola la diremo, più Paola di me sicuramente. Ci sarà anche la presenza del prefetto che ha voluto per la prima volta quest'anno firmare l'appello alla partecipazione alla marcia insieme a me, quindi un segno importante di una figura direttamente del governo che dà l'appoggio non formale ma davvero sentito a questa iniziativa. Ci sarà un flash mob curato da Claudio Gasparotto che è sempre molto bravo a coinvolgere anche i passanti che non sapranno neanche cosa sta succedendo lì per il Black Friday probabilmente ma noi coinvolgeremo anche quelli per dire no alla violenza e alla fine avremo anche un bellissimo DJ set di Marta Musincanta. Allora grazie Gloria, grazie Paola, io rilancio gli appelli delle nostre ospiti che ringrazio ancora una volta, ringrazio voi che ci avete seguito, io vi do appuntamento a venerdì prossimo per un'altra puntata di Come se fosse facile, dopo la sigla come sempre il cartellone con gli appuntamenti del fine settimana dedicati al sociale. Grazie ancora e buona serata. Sabato 24 alle 16 e 30 partirà dall'Arco d'Augusto la camminata cittadina contro la violenza alle donne è per te, organizzata da Comune, Associazione Rompe il Silenzio e Associazione La Pedivella. Il ritrovo è alle ore 16 all'Arco d'Augusto di Rimini. Sabato 24 novembre torna Facciamo un pacco alla camorra, cena con pacco d'ono per raccontare la storia delle cooperative sociali che creano opportunità di lavoro dignitoso per persone momentaneamente in difficoltà. L'appuntamento è alle ore 20 presso il centro parrocchiale di Morciano di Romagna. L'evento è organizzato da Libera Rimini e Passi di Legalità. Domenica 25 novembre dalle 17 al Palacongressi di Rimini si terrà l'annuale Concerto per la Vita, giunto alla settima edizione. Titolo Violetta, Gilda, Adina, Musetta. Poveri uomini. L'evento è promosso dai club service del territorio coinvolti dal Rotary per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulla Corea di Huntington e sulle malattie genetiche. Domenica 25 alle 21 al Cinema Tiberio di Rimini proiezione del film Io sto con la sposa di Gabriele Del Grande. Precede l'evento un momento di incontro alle 20 con musica, dolci e vimbrulè. La serata è organizzata da Pachamama.